Ciao a tutti ragazzi, qui è Blink 182 Italia, siamo lieti di annunciarvi la seconda riunione Seconda, in collaborazione con The Box, l'evento più pop funk dell'anno Le aspettiamo a partire dalle 18 con le live band Leftovers, Flerida, Space Out, Ash, Something in the Backroom, Teresa Nero, The Clusters E con la partecipazione straordinaria di un ospite celeberrio nell'universo dei Blink 182, Odia Bustic Sono inoltre state organizzate tantissime attività come un photoset, una lotteria ricca di tantissimi premi rarissimi 20 luglio, a partire dalle ore 18, Legend Club Milano Ti aspettiamo Sono emozionatissimo Cioè, l'intero cast di Seven Mega Neaux a Milano per noi Per noi Però pensa che noi siamo quelli e allora urlano di là Però guardata, questa gente è qui È qui per noi Mi raccomando, non staccare pop funk Pop funk Pop funk Pop funk Pop funk Wow 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 Ciao ragazze, cosa ne pensate dei Blink 182? Wow 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 Fanno schifo Fanno cagare Fanno veramente cagare Fanno schifo Fanno schifo Fanno cagare Per me fanno proprio schifo Fanno schifo Fanno schifo